Pensate che ogni anno buttiamo via l'equivalente di 90 giornate lavorative in attività che non aggiungono valore, come ad esempio guidare o spostarsi per andare al lavoro e per tornare a casa, oppure in attività che aggiungono valore, ma durante le quali potremo però usare meglio la nostra mente, come quando facciamo sport o facciamo le pulizie di casa, in quei momenti dove il corpo è impegnato ma la mente è annoiata. E solitamente che cosa facciamo in queste occasioni? Come nutriamo la nostra mente? Beh, se ci va bene con i notiziari, pieni di tragedie e disgrazie, oppure dialogando con noi stessi e molto spesso però con pensieri non proprio utili, diciamo con lamenti o risentimenti, non sto puntando il dito, ci casco anch'io ogni tanto. E se ci pensate bene, 90 giornate lavorative ogni anno equivalgono a 3 mesi, sono tantissimi e quante cose si potrebbero fare in 3 mesi? Non dico che ci sia una soluzione, perché comunque in ufficio ci dobbiamo andare, le pulizie di casa qualcuno le deve pur fare, e così come quando andiamo a correre o facciamo sport. Ci sono delle attività che non possiamo delegare, le dobbiamo fare noi, ma questo non vuol dire che non le possiamo fare in modo più intelligente, utilizzando quel tempo che altrimenti sarebbe sprecato, per fare qualcosa invece di più utile per la mente. Sapete, la mente è il nostro centro direzionale, e da dove parte tutto? Tutto ha inizio nella mente, e se non ci prendiamo cura di lei, difficilmente lei si prenderà cura di noi. E immagina se potessi già utilizzare questi 3 mesi per te stesso, per focalizzarti su ciò che conta di più, la tua carriera, i tuoi affetti e la tua salute. Per nutrire la tua mente in modo che ti possa aiutare a diventare migliore. E in questo video scoprirai come poterlo fare in modo semplice, piacevole e senza dover aggiungere un minuto in più a quello che già stai facendo. E se sei un professionista, o comunque una persona che vuole crescere, che sa che può ottenere di più dalla propria carriera, dal proprio gruppo di lavoro e da se stesso, e magari passi molte ore in macchina, oppure in giro per clienti, e ti piacerebbe avere più tempo da dedicare alla tua formazione, alla tua crescita, ma non ne hai, e quando ce l'hai, sei stanco morto e vuoi giustamente riposarti, distrarti o rilassarti. Ecco che qui hai trovato la soluzione che fa per te. Senti il successo. È il doppio CD che raccoglie le 470 frasi più potenti e motivanti che hanno guidato leader, manager e atleti a raggiungere risultati straordinari. Sono due CD perfetti da ascoltare quando sei in macchina, oppure caricati sul tuo iPod quando fai sport, o quando hai bisogno di trovare l'ispirazione e le parole giuste, prima di una riunione importante, prima di incontrare un cliente, ma anche per trovare le parole da usare con i tuoi figli e con il tuo partner. Sono 470 aforismi selezionati per guidarti a raggiungere una serenità mentale e una forza emotiva mai avute prima. E li puoi ascoltare durante tutte quelle attività che già stai facendo ma durante le quali la mente soffre, come quando sei nel traffico o ti sposti da un posto all'altro, in tutti quei momenti dove il tuo corpo è impegnato ma la tua mente è annoiata. E ricordati, se vuoi di più dalla tua carriera e dalla tua vita, devi allenare la tua mente a darti di più. Anche i più grandi atleti al mondo usano un allenatore mentale e Senti il successo può diventare il tuo allenatore mentale portatile. Oggi, con Senti il successo, ti puoi preparare al meglio, in modo economico, veloce e ovunque tu vada. Due cd con 470 aforismi raccolti in 34 categorie e li puoi portare con te sempre, non hai bisogno di leggerli, sono già pronti per essere ascoltati, con una base musicale studiata appositamente per aumentare la tua concentrazione e la tua serenità. E questo che cosa vuol dire? Che mentre gli altri sono nel traffico, tu stai crescendo, stai migliorando e non sarai mai più senza parole, avrai sempre la risposta intelligente da dare perché qui trovi 470 frasi brillanti che possono suggerirti nuovi pensieri e spunti nel tuo lavoro e nella tua relazione. Senti il successo, tra tutti i prodotti e i programmi che trovi in questo sito è il primo che io acquisterei, è il primo che acquisterei perché ha un prezzo che molti possono permettersi, lo posso ascoltare quando voglio, dove voglio e con chi voglio e soprattutto non c'è niente che devo capire, non devo impegnarmi, non devo fare esercizi, non devo pensare e senza accorgermene, nel giro di qualche giorno, ascoltandoli in macchina, in aereo, quando corro o durante la giornata, ecco che mi ritrovo ad avere nuovi punti di vista e nuove idee. Qui sotto puoi trovare dei brevi estratti che ho preparato per te per capire e ascoltare di cosa si tratta. E se anche tu li vuoi avere adesso, è semplice, clicca sul pulsante Compra adesso e in pochi giorni riceverai a casa tua i due strumenti che ti accompagneranno nei tuoi viaggi, quando fai sport o quando vuoi ritrovare la concentrazione per decidere agire in modo rapido e sicuro. Ti auguro buon viaggio, consenti il successo!